Musica Carabinieri e nucleo forestale tornano in Palmaria per un altro sequestro, nominato il nuovo custode giudiziario. Giorno del ricordo alla spezia, domani un consiglio comunale straordinario in Sala Dante. Associazioni ambientaliste e animaliste dicono no agli animali vivi alla fiera di San Giuseppe, lunedì saremo in comune. A quando le amministrative, pochi nomi ufficiali dei candidati e le sinistre sono al bivio. Castelnuovo apre le porte per la terza edizione di Mostre in Torre, primo appuntamento con Tiziana Sacconi. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TLS giornale. È stato nominato un nuovo custode giudiziale e le chiavi di un immobile sono sotto sequestro e sono state sequestrate. È questo il nuovo passo compiuto dai carabinieri dal nucleo forestale a seguito di un controllo sull'isola Palmaria. L'operazione è scattata in questi giorni a seguito di alcune fasi precedenti alle indagini. La forestale infatti prima di confluire nei carabinieri aveva trovato sull'isola Patrimonio Unesco una serie di importanti abusi ed inizi. La nomina del nuovo custode giudiziale è avvenuta anche a seguito della violazione dei sigilli della struttura del dicembre scorso. La Spezia nel secondo dopoguerra accolse e istituì un quartiere dove si insediarono gli esuli Giuliano Dalmata reduci dalla tragedia delle foibe. Sulla accoglienza e sulla storia spezzina legata a quei momenti è intervenuto anche il sindaco della Spezia Massimo Federici nel ricordo anche dell'artista Vittorio Sopracase scomparso recentemente. Ma sentiamo il servizio di Maria Cristina Sabatini e le immagini sono di Davide Morina. Ricorre domani la giornata del ricordo delle foibe, un'altra pagina nera nella nostra storia, forse a volte un po' dimenticata. È stata dimenticata per molti decenni, poi giustamente e finalmente dal 2004 è stata istituita formalmente dal Presidente della Repubblica questo momento appunto nel quale quella tragedia, quella pagina oscura, quella pagina nera della nostra storia venne restituita alla conoscenza, all'approfondimento e appunto anche alla commemorazione di quelle che sono state le vittime delle foibe e poi anche di quella che è stata quella grande tragedia di un popolo che ha dovuto essere esule e che ha riguardato appunto questa tragedia anche la nostra città perché la nostra città poi ha accolto un'importante comunità, ecco migliaia di persone che furono appunto ospitate inizialmente nella caserma Ugo Botti, qua nel quartiere di Ruffino e per troppo tempo appunto è stata negata, è stata rimossa ecco quella pagina. Oggi giustamente e finalmente possiamo cercare di costruire una memoria condivisa intorno a quegli eventi tragici e a Spezia abbiamo fatto un buon lavoro. Facciamo ancora domani, lo facciamo ancora con loro, con le persone che furono direttamente interessate, lo facciamo purtroppo senza vittorio sopra casa. È stato sopra casa che è stato presidente dell'associazione, è figlio di appunto un infoibato ed è stato colui che forse più di tutti in questi anni si impegnò e si è dato da fare per fare in modo che questa vicenda fosse appunto affrontata nel modo giusto. Ci siamo sicuramente molto riconoscenti perché grazie a lui se questa città su quella pagina di storia ha costruito come dire dei momenti importanti ed utili alla consapevolezza comune. Un consiglio comunale straordinario in memoria della tragedia delle foibe è stato organizzato per domani mattina alle 10. Ne abbiamo parlato con Maria Grazia Fria. Vediamo il servizio di Chiara Alfonsetti. La storia della Spezia è molto particolare perché ha ospitato anche gli esuli e proprio per ricordare anche il sacrificio di molte di quelle famiglie che poi hanno trovato diciamo ricovero in questa città, anche alla Spezia si celebra il giorno del ricordo. È vero, molti esuli Giuliano Dalmati dopo la seconda guerra mondiale arrivarono qui alla Spezia. Una tragedia non soltanto perché quegli italiani la dovettero lasciare le loro case e le loro terre ma anche perché molte di quelle persone ebbero parenti e familiari in foibati dai comunisti di Tito che quegli anni governavano, avevano preso il potere in Jugoslavia. La Spezia li ha accolti. Non a caso nella nostra città c'è un quartiere a Mazzetta che si chiama Villagio Sauro dove molti di queste persone poi andarono ad abitare. Noi come tutti gli anni celebriamo questa giornata con un consiglio straordinario. Il 10 di febbraio quest'anno, cade proprio domani mattina, quindi venerdì 10 febbraio, consiglio straordinario in sala Dante con la testimonianza di alcuni esuli che hanno vissuto sulla loro pelle questa drammatica vicenda. Quindi domani mattina alle 10 in sala Dante consiglio comunale straordinario. Sì, insieme tra l'altro ho organizzato insieme all'Associazione Nazionale NVGD che è l'associazione riconosciuta a livello nazionale per organizzare questa giornata del ricordo. E sabato 11 febbraio alle 17 nella sala conferenze della Cisa all'Nvia Leopardi 60 Pietro Tarticchio, scrittore e pittore nato a Istria vicino a Pola e costretto proprio all'Esodo sarà alla Spezia per presentare il suo ultimo libro La Capra vicino al cielo. Parteciperanno anche lo storico Emilio Guidi e Armenio Amorino che porterà la propria testimonianza. Lunedì 13 febbraio sarà discussa in consiglio comunale una mozione depositata in comune dai consiglieri Roberto Masia e Maurizio Ferraioli che chiede all'amministrazione comunale di vietare la vendita degli animali nelle fiere e sagre cittadine. Associazioni ambientaliste e animaliste tra le quali la Lipu in una nota scrivono auspichiamo all'approvazione della mozione, crediamo che i consiglieri abbiano un'ottima occasione per sostenere un cambiamento culturale ed etico nel rapporto tra uomo e gli altri animali che da tempo noi cerchiamo di promuovere. Francesco Angelo di Ruberto, nato a Siracusa il 23 luglio 1956, è stato nominato nuovo questore della Spezia dove assumerà l'incarico dal mese di marzo al posto del dottor Vittorino Grillo. Ruberto arriva ad Auristano dove dal 30 dicembre dell'anno 2013 ha ricoperto la carica di questore in precedenza dal 2010 al 2013 appunto è stato vicario della questura di Lucca. Per la prima volta Meeting Swiss and Europe arriva in Liguria, un workshop che dal 1996 è organizzato a Lugano da guida a viaggi. Rappresenta quindi un appuntamento fisso per i tour operator e per gli agenti del centro-nord Europa. Venerdì 24 febbraio, nell'ex convento dell'annunziata di Sestri Levante, 45 buyer internazionali incontreranno 60 espositori provenienti da tutta Italia. Ospitare un evento di settore di richiamo internazionale, ha commentato l'assessore al turismo di Regione Liguria Gianni Berrino, rappresenta un risultato importante per tutta la Liguria. È un'opportunità straordinaria per le imprese e gli operatori del comparto turistico, non soltanto del Tigulio ma anche delle Cinque Terre e per tutto il territorio. Fruit Logistica Berlino 2017, il porto della Spezia, presenta il progetto Fresh Fruit con un evento B2B. Presente è la presidente dell'autorità di sistema del Mar Ligure orientale, Carla Roncallo. Nel retroporto di Santo Stefano esistono già spazi attrezzati e strutture adeguate per gestire questo tipo di merci. Nell'ambito di questo progetto il porto della Spezia è stato incaricato di sviluppare uno studio di fattibilità che si propone di analizzare le proprie potenzialità riguardo le attività di importazione ed esportazione di prodotti agricoli freschi e deperibili. Una giornata dedicata alla scoperta di Piazza Verdi, quella in programma per domenica 19 febbraio. Nell'occasione i cittadini potranno conoscere meglio la piazza e i dintorni grazie a delle visite guidate prenotabili sin da ora. Questo sarà uno dei temi del quale si parlerà nella puntata della Spezia News in programma per questa sera alle ore 21. Ma vediamone un estratto, le immagini sono di Davide Morina. Ci vediamo in Piazza Verdi, un'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale Spezzina in collaborazione con Poste Italiane e il Conservatorio Puccini della Spezia che si avvolta proprio alla scoperta, alla conoscenza della nuova Piazza Verdi. La giornata sarà quella di domenica 19 febbraio, un'intera giornata proprio caratterizzata dalla presenza di visite guidate che consentiranno a chiunque lo voglia di conoscere proprio questa nuova piazza. Ci saranno delle guide insieme ai progettisti che racconteranno, rappresenteranno la nuova piazza in modo tale che anche le comunità possano crescere insieme a questa riqualificazione. Le piazze servono anche, oltre che a raccontarci, a far crescere le comunità in cui vivono. Ci saranno visite guidate, è possibile prenotarle? Sì, è possibile prenotarle telefonando al Museo LIA, chiedendo di essere iscritti nelle liste per la visita alla piazza ma sarà possibile anche per chi lo desidera prenotarle all'istante. Venendo qui domenica mattina, domenica 19, al centro della piazza ci sarà un punto di informazione e di iscrizione e ci saranno appunto le guide insieme ai progettisti che costruiranno dei gruppi per poter raccontare la piazza, non soltanto la piazza ma anche il paesaggio circostante alla piazza. Quindi non soltanto la scoperta di piazza Verdi ma anche dei dintorni, quindi i palazzi liberti, i palazzi razionalisti, il palazzo futurista delle poste, il mosaico, insomma una serie di visite integrate per far capire e comprendere il perché c'è questo inserto di arte moderna in un contesto ottocentesco e novecentesco e comprendere così i contenuti e viverla più intensamente. E questo insieme alla giornata di sabato 18 febbraio dedicata alla Smart City sarà proprio uno degli argomenti di cui si parlerà questa sera alle ore 21 nella trasmissione della Spezia News. Spostiamoci a Levanto, nel comune è stata emessa un'ordinanza a seguito della caduta di un masso lungo il sentiero che collega Levanto a Monte Rosso che prevede quindi la chiusura del percorso lungo il tratto interessato a causa del rischio di ulteriori distacchi di materiale dalle pareti rocciose. Il percorso rimarrà chiuso fino alla rimozione del masso e alla messa in sicurezza della parete rocciosa. E rimaniamo sempre a Levanto dove slitta di un mese esatto, ovvero da sabato 11 febbraio a sabato 11 marzo, l'inaugurazione della nuova area giochi all'interno dei giardini pubblici di Piazza Staglieno. A causa infatti della pioggia scesa per un'intera settimana i lavori di collocazione delle nuove attrezzature, ossia un'altalena, uno scivolo, una giostra e un trenino e di stesura di una pavimentazione antitrauma stanno infatti subendo dei rallentamenti. Tutta Lerici ha salutato oggi Colombo Bongiovanni, uno degli ideatori della festa di Avvenire, un uomo di fede impegnato in politica e nella cultura. Sentiamo un ricordo di Antonio De Blasi al microfono di Italo Lunghi. De Biagi, oggi pomeriggio l'estremo saluto a Colombo Bongiovanni, un pezzo di storia, una figura rappresentativa nella parrocchia di Lerici e non solo. Sì, 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 oltre che una figura rappresentativa personalmente anche un carissimo amico, un carissimo amico di famiglia. È mancato martedì sera alle 22.15, diciamo serenamente, possiamo dire che da lunedì già sentiva e quasi sembrava che volesse affrettare l'incontro con il Signore. Ecco, un uomo di preghiera e un uomo anche impegnato in parrocchia, uno degli animatori e dei fondatori della festa di Avvenire insieme a Don Ricciardi. Sì, sì, da tutto principio, quando Monsignor Ricciardi ha avuto l'idea della festa di Avvenire, Colombo è stato tra gli organizzatori ed ha continuato ancora l'anno scorso a partecipare agli incontri organizzativi. È sempre stato impegnato in parrocchia, in tutti i campi. Amava la cura della liturgia, amava il canto sacro, ha avuto un coro. Ecco, Colombo è stato anche una figura importante nella politica spezzina. È stato proprio uno dei cattolici impegnati in politica, come si direbbe oggi. Nel dopoguerra è stato una delle personalità più eminenti proprio del cattolicesimo impegnato in politica. Ha ricoperto delle cariche anche di responsabilità molto importanti, sia a livello locale, consigliere comunale, che poi anche a livello provinciale. E un suo tratto caratteristico, peculiare, che possiamo dire, il suo amore al confronto, sempre affermando le sue idee, però sempre pronta al confronto e alla discussione. Ha sempre fatto tutto il suo servizio senza nessun tornaconto personale. Un uomo anche di grande cultura. Sì, un uomo di grande cultura, che amava essere informato di tutto, uno studioso, possiamo dire, e poi questo suo amore per la cultura amava Lerici. Lerici era la sua passione. E' da qui che nasce il vocabolario del dialetto lericino, che è un'opera notevole. Qual è un tratto che avrete voluto sottolineare oggi nell'estremo saluto? E' il tratto fondamentale, la fede, la fede di Colombo. Proseguono i lavori di pulizia straordinaria delle condotte di Acque Bianche nel territorio comunale di Lerici. E' stata completata nei giorni scorsi la pulizia di diversi tratti del canale Lizzarella-San Terenzo e di alcuni condotti minori, garantendo così lo smaltimento delle acque piovane nella parte bassa della frazione, mentre è attualmente in corso quella delle condotte in prossimità di Piazza Battisti e Via Roma. Sinistre al bivio in vista delle amministrative alla Spezia. Questo è il titolo della puntata di questo venerdì del salotto del signor Rossi. In studio avremo ospiti Federica Pecunia del Partito Democratico, Michele Fiore Possibile, Massimo Lombardi, Rifondazione Comunista e Pierluigi Sommovigo del Partito Comunista di Italia. Appuntamento quindi alle ore 21.30, domani venerdì 10 febbraio su Tele Liguria Sud. Ma vediamo una breve anteprima di un servizio che trasmetteremo nel corso della puntata. Qualcuno in un certo senso, vi ha fatto arrivare questa voce, state remando controcorrente e il rischio è di consegnare il Comune della Spezia o al centro-destra o ai grillini. Voi che cosa rispondete ad oggi? Che assolutamente, chi diciamo fa ipotesi di questo tipo, io le respingo totalmente al mittente. Intanto i rapporti non si creano in pochi giorni prima delle elezioni, ma devono esserci un percorso di mesi, se non di anni, per provare a costruire una visione comune di città. Questo ovviamente è mancato e le cronache lo raccontano tutti i giorni. Le difficoltà politiche, non ce le nascondiamo, nazionali, regionali, locali, non è che possono metterci sotto il tappeto dall'oggi al domani. È chiaro che l'inasprimento di Toni c'è stato, c'è qualcuno che quasi quotidianamente porta questa tesi, forse per il voto utile, forse per altri scopi, non ho idea, che è una tesi completamente sbagliata. Non fa altro che allontanare, a mio avviso, quelle che sono le possibilità di dialogo, comunque di provare a trovare delle convergenze, se così, se qualcuno vuole lavorare in questo senso. Io ritengo che anche le ultime vicende siano state poco chiare e non ci sia stato neanche quel chiarimento che se qualcuno riteneva opportuno doveva fare con una forza maggiore. Ripeto, le elezioni sono a breve, non si può dall'oggi al domani andare a costruire delle alleanze delle cose che verrebbero anche poco capite dalla cittadinanza e soprattutto, ripeto, in un contesto come quello attuale che vede la sinistra completamente all'opposizione a Roma e Regione rispetto a determinate componenti. Quindi, ripeto, io sono ed assolutamente sono, noi siamo come sinistra italiana fortemente convinti che lavorare ancora qualche settimana, qualche mese su un progetto veramente civico, un progetto di rilancio della città, un progetto in cui i partiti, sui quali noi crediamo fortemente, ma in questo momento storico, hanno il dovere di fare un passo indietro per dare molto alla città e chiedere poco in cambio. Perché questo è il punto fondamentale sul quale dobbiamo lavorare nelle prossime settimane, sia l'unica strada giusta per provare non soltanto a vincere le elezioni, ma anche a governare la città e governare in maniera giusta, ripeto, e rispondere a quelle richieste, a quelle necessità che da troppi anni ormai aspettano la risposta, ma non l'abbiamo ancora vista, ecco la risposta in questi termini. Sabato 11 febbraio alle 16.30 nei locali della Sala Polivalente, in Piazza 2 Giugno, l'Avis Arcolana convoca l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del Consiglio Direttivo del Quadriennio 2017-2020. Invito tutti gli arcolani che hanno voglia di collaborare con noi a presentare la propria candidatura. Questo è l'appello che lancia il Presidente Alberto Lupi. Abbiamo bisogno di un necessario ricambio generazionale per continuare a essere presenti sul territorio e al servizio della comunità. Domani, venerdì 10 febbraio alle 17.30, si terrà al CAMEC la presentazione del catalogo che documenta il riuscito allestimento della mostra di Giovanni Frangi, Uso di Mare, un'occasione per incontrare l'artista e ascoltarne il racconto insieme al curatore Marco Meneguzzo. Il Museo del Sigillo e il CAMEC in collaborazione con la COPZOA e propongono un fine settimana dedicato a laboratori ludico-ricreativi. Il Museo del Sigillo, sabato 11 alle 16, nel laboratorio Castelli, Vessilli e Sigilli, i partecipanti potranno ideare originali stemmi nobiliari, mentre domenica 12, sempre alle 16, al CAMEC, i partecipanti creeranno maschere ironiche e coloratissime che prenderanno forma dall'assemblaggio di materiali di scarto della civiltà moderna. Concerti a teatro, la rassegna dedicata alla musica classica promossa dalla Fondazione Cari Spezia prosegue con il terzo appuntamento della stagione 2017 che porterà in scena sul palco del Teatro Civico della Spezia lunedì 13 febbraio alle 21, la celebre violoncellista argentina Sol Gabetta insieme al pianista francese Chamayot. Scopriamone di più nella nostra intervista. Terzo appuntamento con i concerti a teatro della Fondazione Cari Spezia al Teatro Civico. Questo lunedì saliranno sul palco due musicisti di fama internazionale, una violoncellista argentina e un pianista francese. Conosciamoli meglio chi sono? Effettivamente, questo lunedì avremo al Teatro Civico alle ore 21 Sol Gabetta, Vironcello, e Bertrand Chamayot al pianoforte. Sol Gabetta, uno dei violoncellisti più noti al Libro Mondiale, basta ricordare che nel 2004 ha debuttato con il Wiener Philharmoniker, a questo concerto ha seguito il Berliner, è spesso invitata alla Scala, alla Scala di Milano, di qui a poco andrà anche a Santa Cecilia, sicuramente è uno dei violoncellisti più note. Insieme a Bertrand Chamayot, un pianista francese, molto raffinato, da anni lavorano insieme, molto noto anche lui per la sua raffinatezza pianistica. qual è il programma che presenteranno questo lunedì? Avremo un programma composto da Schumann, Beethoven, Chopin. Beethoven, la sonata opera 5, numero 1, è una sonata che ha marcato un po' la storia dell'opera cameristica di Beethoven, è stato un nuovo inizio nel mondo cameristico betoveniano, dopo avremo la sonata di Chopin, la sonata di Chopin è una delle rarissime opere cameristiche scritte da Chopin. Sicuramente un programma romantico di grande impatto per il pubblico. Concerti da teatro sono promossi dalla Fondazione Cari Spezia e anche questa volta, questo lunedì, propongono una guida all'ascolto prima del concerto. Sì, dall'anno scorso sono stati previste le guide all'ascolto alle ore 18 presso il ridotto del teatro civico vedremo il maestro Marco Montanelli noto musicista Spezzino che accompagnerà il pubblico in una migliore comprensione del programma serale. Si apre domani a Genova con la premiazione di Enrico Testa docente, poeta, saggista e giornalista la ventunesima edizione del premio Montale Fuori di Casa. Il premio che ha la sua sede storica sarzana dal 2016 si svolge oltre che nella cittadina medievale della provincia Spezzina anche a Genova Milano e a Firenze le tre città nelle quali Montale abitò e conservano la memoria della sua vita. Appuntamento con la sezione Ligure del premio domani alle 17.30 a Palazzo Ducale nella sala della Società Ligure di Storia Patria. è stata presentata questa mattina nel comune di Castelnuovo Magra la terza edizione di Mostre in Torre un calendario ricco di eventi che prenderanno avvio il 24 marzo con l'inaugurazione della mostra Nutrica Zea di Tiziana Sacconi vediamo il servizio di Davide Morina per il terzo anno consecutivo qua a Castelnuovo Magra nella torre del castello dei Vescovi di Luni diamo il via ad un programma di mostre fotografiche che potranno agliettare la stagione estiva non soltanto del nostro comune si tratta di un programma davvero ricco che parte nel mese di marzo e che si concluderà soltanto ad ottobre e prevede un primo evento denominato Nutrica Zea soltanto tre giorni ma davvero intensi a conclusione di un progetto sulla semina del grano turco che porta addirittura alla farina e quindi alla polenta come piatto della tradizione passiamo poi invece al 31 di marzo con l'inaugurazione della mostra di Tano D'Amico un grande fotoreporter italiano che ci presenterà la lotta delle donne una panoramica di una cinquantina di foto appunto su questo tema davvero ancora oggi attuale andiamo avanti e incontriamo la mostra di Mario D'Ondero che fa da apripista lo dico forse che è un termine poco corretto ma questa è la sostanza alla mostra di Bruce Chatwin che si svolgerà nel pieno periodo estivo e che sarà invece la mostra sul grande scrittore Bruce Chatwin autore di molti libri di viaggio e che in questo caso incontriamo nella sua veste un po' particolare di fotografo insomma ce n'è per tutti i gusti e invitiamo tutti quanti a trascorrere una estate e una primavera con noi a Castelnuovo Magra Apriamo la pagina sportiva una giornata intera dedicata alle arti marziali è l'edizione 2017 di Warriors Land che si svolgerà domenica al palazzetto dei Prati di Vezzano vediamo il servizio anche quest'anno riproponiamo Warriors Land la quarta edizione di questo grande galà di arti marziali dedicato al nostro ragazzo scomparso qualche annor sono purtroppo Davide Virdis è un evento per la nostra provincia un grande evento diciamo uno dei più importanti anche in regione una manifestazione che parte al mattino con combattimenti dei bimbi una esibizione dei bimbi fino ai 12 anni per poi proseguire al pomeriggio dalle ore 13 con la parte dilettantistica di contatto leggero di contatto pieno di kickboxing e di Muay Thai per poi arrivare al galà vero e proprio che alle 5 inizierà con 9 incontri tra professionisti ci saranno ospiti importanti ci saranno gli atleti molto forti a livello italiano come Desirelli che combatterà di Muay Thai for rules come Dinka e lo stesso ci abbiamo Tariq Toz che comunque sia il primo nel ranking italiano che è già vincitore di Bellator di Ottagon e di svariate altre manifestazioni uno sport che sembra violento ma che forse non lo è e anzi anche una valenza sociale assolutamente sì infatti noi teniamo moltissimo a questo aspetto una palestra ma più che una palestra un punto di aggregazione importantissimo i ragazzi vengono tre volte alla settimana abbiamo ragazzi che fanno percorsi particolari avevamo problemi di ragazzi che non riuscivano ad inserirsi stavano in casa hanno provato hanno trovato un ambiente molto favorevole vengono si divertono si scaricano e le famiglie sono molto serene nell'aver trovato appunto una situazione favorevole per i propri ragazzi i ragazzi trovano appunto in queste gestualità il modo di sfogarsi e di buttare fuori energie che possono essere talvolta anche negative in modo tale da trovare un giusto equilibrio e soprattutto la giusta serenità per poi affrontare anche un discorso di studio o affrontare un discorso di vita serena di tutti i giorni in chiusura veniamo ora alle previsioni meteo per la giornata di domani venerdì 10 febbraio cielo coperto su tutta la regione con deboli precipitazioni sul centro ponente sui versanti padani di ponente e possibili spolverate nevose sparse dalle prime ore della notte fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio ma vediamo sulla costa nuvoloso con qualche schiarita al mattino al pomeriggio il cielo sarà coperto l'umidità si manterrà su valori medio-alti per quanto riguarda i venti a Levante inizialmente forti da nord-est in calo in mattinata il mare a Levante mosso in calo a generalmente poco mosso dal pomeriggio per quanto riguarda le temperature oscilleranno tra una minima di 7 a una massima di 11 gradi e questa era l'ultima notizia vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti